Bene, allora io mi propongo di parlare del movimento delle donne come ha anticipato Fabrizio che è comparso prepotentemente sulla scena politica negli ultimi tempi e magari anche delle prospettive di lotta di questo movimento magari in un quadro europeo che è l'ambito territoriale che ci riguarda da vicino. La prima caratteristica di questo movimento, lo anticipava Fabrizio, è il fatto che sia un movimento a dimensione globale, globale nel senso non solo geografico ma anche politico e questa è una cosa che mi sembra importante nei nostri journey, sono tempi di chiusure localistiche, di nazionalismi fomentati dalla destra, di suggestioni sovraniste alimentate da una parte della sinistra. Invece c'è stato questo appello alla mobilitazione generale internazionale che è stato lanciato dalle donne argentine del Niuna Menos che hanno evitato le donne di tutto il mondo a scioperare nella giornata dell'8 marzo. Niuna Menos è una coalizione di associazioni e collettivi in Argentina che da tempo sta lottando contro un altissimo numero di femminicidi. Il femminicidio è un fenomeno gravissimo nell'America Latina, anche più grave che da noi, tanto che il termine femminicidio è nato in Messico in riferimento alla vera e propria strage di donne che si consuma nell'industria machilladora ai confini con gli Stati Uniti, senza che il governo messicano faccia assolutamente nulla rispetto a questa strage continua. Quindi Niuna Menos significa non una di meno tra di noi, quindi basta tra i femminicidi, però al giorno d'oggi significa anche non una di meno nella lotta in piazza. Questa chiamata allo sciopero rimbalzata ai quattro angoli del pianeta è raccolta l'adesione, mi sembra, di oltre 40 paesi, ma probabilmente anche una cifra inferiore alla realtà. In molti di questi paesi c'era già un movimento di massa, c'erano state delle mobilitazioni di massa, sicuramente nel Sud America, in Argentina, in Brasile, ma anche in Irlanda, anche in Italia. E sull'onda di queste mobilitazioni precedenti, milioni di donne nel mondo hanno ricondotto l'8 marzo al suo senso originario di giornata di lotta, strappandolo ai rituali di una festa ipocrita fatta di fiori e di cioccolatini per un giorno. Dunque, questo mi sembra importante, che si è capito che bisogna agire alla stessa scala sulla quale si dispiega quotidianamente la violenza patriarcale. Lo sciopero internazionale ha avuto il senso di indicare l'importanza di questa scelta politica. Ora, è ovvio che in un movimento a carattere globale e naturale che esistano molteplici rivendicazioni e che al suo interno ci siano anche pratiche diverse. È normale perché in un movimento di massa è così, è perché poi il patriarcato ha molte facce, ha molti aspetti di violenza nei confronti delle donne, la violenza domestica, la violenza del mercato, diverse forme di politiche discriminatorie e repressive. È naturale quindi che nei diversi contesti si sia privilegiato un tema specifico. Però tutte le donne americane, europee, asiatiche, africane hanno scioperato insieme contro questa una analoga condizione di subalternità e di violenza tradizionale. E da tutte le piazze è arrivata una denuncia forte di una stretta che è in atto sulle donne di tipo patriarcale, sia nell'ambito familiare che nella società. Sia perché c'è un tentativo di restringere o addirittura abolire la legislazione sull'aborto nei paesi che negli anni scorsi si sono dati, una legislazione in questo senso. Sia perché aumenta il peso delle discriminazioni sessiste nel lavoro, perché c'è un impoverimento legato al diffondersi del precariato o anche sul piano della lotta alle ideologie omofobiche e transfobiche. Devo dire che c'è anche una cosa importante. Nei paesi occidentali è stato posto il problema delle vessazioni che subiscono le donne migranti. Questo è notevole, perché il movimento abbia lanciato a livello internazionale un chiaro messaggio di lotta al razzismo e alla xenofobia. Notevole nei confronti di un problema che qualche volta anche da noi sembra essere dimenticato anche dall'estrema sinistra. In molti casi i cortei sono riusciti a catalizzare anche una contestazione sociale più ampia con una forte partecipazione di uomini. negli Stati Uniti si è replicata la grande mobilitazione che nel 21 gennaio scorso, quando scesero in piazza due milioni di persone contro Trump, che è il campione del maschilismo a stele strisce, che è maschio, è bianco, è capitalista. L'altro carattere che mi piace sottolineare è il fatto che la critica femminista ha un contenuto molto radicale. Benché ci sia stato sempre un obiettivo specifico messo al centro, tuttavia il movimento non è la sommatoria di vertenze locali, messe occasionali, messe insieme. La lotta femminista va molto al di là di questo. Perché si è capito che la violenza che opprime le donne, in molte forme, dappertutto è istituzionalizzata, ed è parte integrante dell'ordine neoliberale capitalista mondiale, ne deriva che anche al di là della consapevolezza che tante volte hanno le singole persone. Questo è un movimento dagli obiettivi molto radicali. La lotta alla violenza di genere, ai meccanismi, ai poteri che perpetuano questo sulla condizione delle donne implicano una lotta a fondo contro l'ordine sociale capitalista. Perché se il capitalismo non ha inventato il patriarcato, ma lo ha ereditato da forme sociali più arcaiche, è certo che lo utilizzi per i propri fini di sfruttamento e crea le condizioni per la sua continua riproduzione. Crea un ordine produttivo e sociale che contemporaneamente discrimina e poi mette a profitto le differenze. Quindi l'uno non è eliminabile senza l'altro. Lo hanno detto molto bene le donne, forse argentine, non so se mi sbaglio, ma voglio riferire a questa frase che ho letto in un documento che mi sembra perfetta per descrivere questa situazione. Se combattiamo la nostra singola battaglia sull'aborto, sul femminicidio, eccetera, combattiamo solo un dito del gigante. Invece noi dobbiamo abbattere il gigante, non il dito. Perfetto. L'altra caratteristica ancora è che questo non è il femminismo delle donne in carriera, delle quote rosa, delle poche privilegiate che si fanno strada nella società che per qualche tempo abbiamo visto anche qui in Italia. Si può dire che questo sia il femminismo del 99% perché è costituito da lavoratrici del mercato formale, da precarie, da lavoratrici disoccupate, da casalinghe, cioè lavoratrici relegate ai lavori di cura nelle case dove svolgono gratuitamente attività che dovrebbero essere prestate dallo Stato. Ora, la condizione sociale di queste categorie è continuamente in peggioramento, per il progressivo smantellamento del welfare, per la deregolamentazione del mercato del lavoro, per le politiche, insomma, del neoliberismo, il quale poi estende a tutto il mondo del lavoro dei tratti che storicamente hanno caratterizzato il lavoro femminile, i bassi salari, l'obbligo ad una piena disponibilità del tempo, l'intermittenza lavorativa, tanto che molti parlano di femminilizzazione delle condizioni del lavoro. Ma è chiaro che il neoliberismo si serve delle donne come veicolo più facile per favorire la diffusione di questi processi. Dunque, io credo che il protagonismo di questi strati sociali ha portato con sé proprio la rabbia e la determinazione che abbiamo visto esprimersi nei cortei e questo è il frutto proprio di questi fattori di trasformazione. Dirò qualcosa, il tempo corre, quindi dirò qualcosa di non una di meno in Italia. Il movimento italiano è giovane, non ha nemmeno un anno, è nato meno di un anno fa, dopo una serie di innumerevoli e feroci femminicidi. La manifestazione del 26 di cui parlava Fabrizio prima ha sorpreso tutti per la partecipazione che c'è stata, che è stata sorprendente anche per le organizzatrici di questa manifestazione. Poi ci sono state due affollatissime assemblee nazionali, uno a Roma il 27 novembre e un'altra ai primi di febbraio a Bologna, nella quale si è discusso dei compiti del movimento. Innanzitutto c'è stata la volontà di riscrivere dal basso la legge contro contro la violenza in sostituzione di una legge antiviolenza che da qualche anno è stata adottata in Italia ma che non coglie gli obiettivi per cui era stata richiesta. In pratica il governo e poi il Parlamento italiano hanno emanato una legge che ha messo in piedi delle strutture burocratiche dove le donne che vi si rivolgono vengono accolte come vittime poi vengono assistite in giudizio perché la denuncia è obbligatoria se non vogliono denunciare qualche volta questo capita perché è una cosa molto delicata e vengono rimandate a casa senza alcuna forma di protezione dalla violenza. Insomma sono strutture che sono burocratiche che non hanno nulla a che vedere con i centri antiviolenza che ha creato nel tempo il movimento femminista sono centri dove è stata elaborata una pratica femminista che veramente cerca di aiutare le donne che vogliono uscire da una relazione violenta magari anche assistendolo in giudizio però soprattutto cercando di mettere in campo un sostegno all'uscita reale dalla famiglia violenta dalla relazione violenta con una pratica in cui le donne aiutano le donne la richiesta del movimento è quella di trasformare la legge mettendo in piedi delle strutture che assomiglino a questo o perlomeno comunque non siano separate dal movimento che il movimento possa assicurare un controllo su questi centri e poi c'è anche la questione dei finanziamenti perché c'è il rischio che i centri antiviolenza gestiti dal movimento direttamente chiudano per mancanza di fondi molti infatti stanno chiudendo perché non hanno nemmeno i soldi per pagare la bolletta della luce però allo stesso tempo la discussione in queste assemblee ha messo in luce che la violenza non è solo quella dei rapporti intrafamiliari è strutturale nella società e si sono organizzati dei tavoli tematici per discutere dei diversi aspetti in cui questo avviene dal lavoro alla salute dall'educazione quindi alla scuola dove si potrebbe fare formazione all'uguaglianza di genere dal sessismo delle relazioni anche nel movimento e poi c'è anche un tavolo sulle donne migranti sulle problematiche delle donne immigrate ora queste discussioni non sono finite come ho detto prima il movimento è giovane si sta ancora strutturando e si prevede un'assemblea una nuova assemblea nazionale alla fine del mese prossimo per poter diciamo completare la piattaforma delle rivendicazioni ma già al centro dell'8 marzo ci sono stati però una serie di punti gli 8 punti per l'8 marzo che introducevano chiaramente una prospettiva femminista di critica al lavoro produttivo al lavoro produttivo e riproduttivo cioè in pratica sull'organizzazione della società scioperare astenendosi dal lavoro produttivo e riproduttivo infatti non significa solo sottrarre del tempo di lavoro all'economia generale significa invece produrre una critica radicale a tutto l'ordine organizzativo della società ora questa la partecipazione ai cortei serali e pomeridiani dell'8 marzo è andata molto bene come sapete o forse non lo sapete perché la grande stampa non ci ha dedicato nemmeno una riga su questo però le informazioni corrono anche per altre vie i cortei sono stati molto partecipati lo sciopero non è andato molto bene ci sono state basse percentuali di adesione però non c'è da meravigliarsi io credo o di questo non solo per la giovinezza del movimento che non ha avuto ancora il tempo di estendersi in tutte le direzioni ma anche per i gatti che pesano sulle donne lavoratrici oggi ma anche perché non c'è stata la copertura dei maggiori sindagati italiani la CGL ha taciuto per molto tempo e infine ha dato la possibilità alle strutture locali di dare una copertura nel loro territorio questo ha comportato praticamente l'assenza di risposte salvo la federazione dei lavoratori della conoscenza che invece ha dato la copertura però l'ha fatto in ritardo e poi in pratica sappiamo che non ha lavorato molto per convocare le assemblee e spiegare alle donne di che cosa si trattava dunque in sostanza le percentuali di adesioni sono basse anche se ci sono però dei casi esemplari sia di fabbriche che di altri luoghi di lavoro dove le adesioni sono state più cospicue perché lì c'è un lavoro da più lungo tempo dei sindacati di base o della corrente di opposizione interna alla CGL che hanno lavorato per questo lo sciopero ha avuto la copertura solo di alcuni sindacati di base dunque il movimento sta crescendo comunque dopo questa giornata anche dell'8 marzo stanno nascendo anche nuovi collettivi non una di meno poi i collettivi sono in aumento in tutta Italia un movimento che sta diventando di massa naturalmente ha molte voci al suo interno e a volte anche contraddittorie ci sono discussioni accese però come dire forse da questo si ricava anche una lezione di metodo è normale che in un movimento ci siano visioni e prospettive diverse però quando si tratta di fare la lotta generale le donne sono unite nessuno ha mai pensato di fare un corteo la mattina o nel pomeriggio nessuno ha pensato nessun collettivo associazione o componente del movimento ha pensato a dare rilievo insomma alla propria organizzazione ha pensato alla propria visibilità ma sempre sei privilegiata l'unione delle forze perché il nemico da battere è forte ed è unito contro di noi allora mi avvio le conclusioni sulle prospettive di crescita di questo movimento io credo che la necessità di continuare sui temi già proposti dal movimento dovrà è auspicabile noi come compagna di sinistra anticapitalista ci vogliamo impegnare in questo senso dovrà cercare di porre questi obiettivi anche al di là dei confini nazionali e cercare di muoversi a scala europea per esempio la difesa della della legge sull'aborto è una cosa che ci interessa non nel senso che siano forti gli attacchi a questa legislazione però in pratica l'obiezione di coscienza così diffusa che negli ospedali la 194 in pratica non si applica però le donne polacche si stanno battendo contro il fondamentalismo cattolico che vorrebbe abolire questa legge ugualmente questo problema appartiene alle donne irlandesi e anche per quanto riguarda le altre tematiche che stiamo portando avanti ci si può unire le donne francesi che hanno prodotto delle manifestazioni incomiabili veramente molto grandi nelle principali città francesi che hanno visto tra l'altro un inedito protagonista di donne migranti oppure non so penso alle donne svedesi che hanno ripoliticizzato il lavoro di cura hanno riportato in piazza centinaia di lavoratrici anche della sanità degli ospedali del lavoro a domicilio aprendo un percorso per contro la precarizzazione dei servizi alla persona eccetera si potrebbe continuare perché tutta l'Europa tutta la vecchia Europa ha partecipato allo sciopero dell'8 marzo e tutta l'Europa è interessata come noi a costruire un'unità sovranazionale operando per una ricomposizione del forno degli oppressi questa è un'altra cosa concludo veramente è la prospettiva che dobbiamo cercare di facilitare è chiaro che gli obiettivi per cui il movimento delle donne si batte non riguarda soltanto soltanto le donne il movimento ha costruito uno spazio politico in cui possono entrare anche gli uomini che rifiutino e rinuncino ai privilegi tradizionali perché bisogna costruire il fronte degli sfruttati il fronte dei lavoratori perché è proprio la lotta delle donne che porta con sé la necessità di sviluppare più a fondo la critica di genere ma insieme anche di classe attaccare i rapporti sociali di produzione e di riproduzione che sono propri del capitalismo dagli anni settanta in un altro ciclo di lotte femminista si diceva non c'è liberazione della donna senza rivoluzione e non c'è rivoluzione senza liberazione della donna e questo credo che sono parole d'ordine che vadano riproposte con molta forza grazie